Ceneri disperse è un albero al posto della più classica tomba. Sono sempre di più le persone che una volta morte scelgono di farsi cremare. Spesso però mancano i luoghi dove conservare le ceneri del defunto oppure dove disperderle. Ad altri par da l'amministrazione comunale ha pensato di adibire un'area della Pineta Sessa, polmone verde della città del sabato, alla dispersione di ceneri da cremazione. La decisione, adottata pochi giorni fa con una delibera della giunta spagnolo, nasce dalla richiesta presentata da un privato al comune di poter procedere dopo la cremazione alla dispersione delle ceneri di un proprio caro. Contestualmente è stata chiesta anche l'autorizzazione alla piantumazione di un albero e di una stela commemorativa in ricordo del defunto. La legge prevede che la dispersione possa essere effettuata presso i cimiteri ma anche in altre aree di pertinenza del comune. Spiega il primo cittadino Paolo Spagnuolo, visto che c'è stata la richiesta di un privato, c'è l'obbligo da parte dell'ente pubblico di individuare un'area con determinate caratteristiche che sia lontana dal centro abitato. Da qui, dopo una valutazione del prescritto parere tecnico, abbiamo individuato nella Pineta Sessa San Gregorio un'area dove poter procedere alla dispersione da qui in avanti delle ceneri. La scelta è ricaduta sull'area per le caratteristiche tecniche che presenta la zona, una serie di requisiti previsti dalla legge che l'area rispetta in tutto. Non è mancata però qualche polemica. D'estate l'area è una zona picnic ma il sindaco prova a tranquillizzare tutti. La zona sarà recintata e distinta dal parco.